E tra i primi qualificati agli ottavi di finale Stefano Bertoldi, quindi una faccia già conosciuta Dal nostro team Buonasera a tutti, sì, ho appena finito lo step 2, ci siamo qualificati per il main event di domani È stato un tavolo abbastanza impegnativo all'inizio, avevo il tavolo con Giorgio Silvestrine e altri 2-3 giocatori abbastanza solidi Poi dopo le carte hanno fatto la loro ed è stato abbastanza in controllo, chiamiamolo così Ho avuto due spot molto favorevoli per cui riesce C'è qualche giocatore, anche magari la persona che ti sta guardando adesso, Claude David, che magari temi, non so? Lo stimo tantissimo, è un caro ragazzo, ha un po' di problemi con le stanze d'albergo Però a parte questo è veramente, veramente forte L'unica cosa, gli manca quel pizzico di fortuna in più che gli avrebbe fatto fare il salto di qualità Allora, parliamo della Poker Champions League Adesso appunto Claude David sta scherzando su questa battuta che ha fatto Stefano Bertoldi Parlando della Poker Champions League, questa formula La formula è ottima, ti permette di giocare, emergono i giocatori tecnici Permettono di avanzare tranquillamente nel torneo e di poter giocare sempre deep nei vari step Il parco giocatore di solito di questi eventi è di medio-alto livello Per cui non è nemmeno facile anche quando il numero magari non è esattamente quello elevato Per cui è una formula che si addice molto alle mie caratteristiche Che sono un giocatore di rete E comunque possiamo aggiungere che anche permette un po' a tutti Perché non c'è solo la possibilità di accedere al 1100 Ma anche per esempio con i free roll di ieri Al quale, tanto per citare una persona Ecco, a parte Stefano Bertoldi, una persona che ha citato Tipo Giorgio Silvestrin, appunto, a partecipare con 10 euro No, ma permette a tutti di accedere Quindi la formula a step è sicuramente quella che ti permette gradualmente Di arrivare a un buy-in anche elevato Con un minimo investimento Noi adesso, io sono entrato direttamente al 5.50 Dopo il frigo di ieri Perché per motivi di lavoro non potevo giocare sul pomeriggio Però questo ti permette di accedere contenendo i costi E giocando direi anche con un buon poker divertente Benissimo, allora ci vediamo agli ottavi di finale con Stefano Bertoldi Grazie a tutti Grazie a tutti